Don Massimo D'Abrosca è il nuovo parroco di Borgo Nuovo di Pontechio Marconi. Don Massimo, 44 anni e sacerdote dal 98, ha esercitato il ministero nelle parrocchie di San Pio X e Cristo Re come incaricato di Ocesano per la pastorale giovanile. Dal 2005 era parroco a San Carlo al Porto, la parrocchia di Borgo Nuovo in comune di Sassomarconi, vicariato di setta a 2500 abitanti ed era vacante in seguito al decesso di Don Gianfranco Franzoni.